Sì, credo che abbiamo giocato una partita molto solida per tutti i 40 minuti, conquistando questa qualificazione meritatamente. Siamo arrivati dopo un viaggio allucinante, con situazioni difficili come l'assenza di Michael e Jenkins con la febbre, ma ho visto proprio la voglia di sacrificarsi. Mi ha giocato una partita spesso in controllo, potevamo limare qualcosa, ma siamo molto molto contenti di questa qualificazione alla semifinale, perché è la nostra seconda semifinale consecutiva in una Coppa europea su tre anni di partecipazione alle Coppe, quindi per il nostro club è un motivo di grande orgoglio e voglio condividere con i giocatori che stasera ancora una volta si sono sacrificati, a cominciare da Bruno Cerella che ha fatto una partita molto solida, ma devo dire tutti con grande spirito di abnegazione al di là degli errori commessi contro una squadra, secondo me, di qualità che ci ha messo in difficoltà, ma sapevamo che questa sarebbe stata ancora di più stasera una battaglia e questo è motivo di soddisfazione per tutti, quindi ci portiamo a casa dopo questa avventura, una bella qualificazione, ce la godiamo e cerchiamo adesso di recuperare energie perché ci aspetta un ritorno altrettanto lungo e stancante.